L'Istituto Alberghiero è oramai quasi da un anno al centro di forti polemiche per il suo trasferimento dal territorio di Cesa. Una decisione presa dalla provincia di Caserta quella di trasferire l'Istituto in un altro luogo, negandone i diversi consigli di rivedere la convenzione gratuita con il Comune di Cesa che ne avrebbe permesso il non trasferimento. A distanza di mesi ci troviamo ancora una volta ad assistere a tentativi di persuasione da parte della minoranza del Partito Democratico di Cesa, composta dal Vicepresidente Giuseppe Fiorillo e dai consiglieri comunali Enzo Guida, Domenico Mangiacapra e Antimo Dell'Omo. Tanto che hanno indetto un'assemblea pubblica presso la scuola elementare Rodari con la presenza di genitori ed insegnanti. La speranza è che qualcuno all'interno della maggioranza si renda conto che l'amministrazione comunale si sta muovendo contro gli interessi del Paese e contro chi ha voluto l'Istituto Alberghiero a Cesa. Ecco cosa ha dichiarato il consigliere comunale Enzo Guida. Il consigliere, lei è uno dei membri dell'opposizione che ha voluto fortemente questa assemblea pubblica proprio per cercare di risolvere il problema che ormai sussisse già da un anno relativo all'Istituto Alberghiero. Ecco quali sono le proposte che presenterà oggi nell'assemblea ma soprattutto cosa significherebbe per il territorio perdere l'Istituto? Noi più che proposte nostre vogliamo capire un po' dal ragionamento con i genitori e con gli alunni capire soprattutto qual è la loro posizione rispetto ad un provvedimento che si determinerà l'andata via dell'alberghiero da Cesa. Noi siamo stati critici rispetto a questa posizione anche perché non abbiamo condiviso il metodo utilizzato dall'amministrazione comunale per arrivare ad una determinata scelta. Cioè nel senso che riteniamo che non ci sia stata una vera contrattazione, una vera trattativa con la provincia perché molto probabilmente alla base di questa decisione c'è un disegno che è quello di mandare via la scuola a prescindere. Allora noi vogliamo attraverso questa assemblea anche innanzitutto capire come dicevo i genitori che cosa pensano, gli alunni che cosa pensano e provare a riaprire un tavolo di trattativa con la provincia ma fatto in modo più serio per cercare di capire se esiste una possibilità. Fermo restando che quello che è da contestare non è solo la vicenda di Cesa. La vicenda di Cesa è una delle tante perché di recente la provincia ha approvato un piano che riguarda la riorganizzazione dei studi superiori che sostanzialmente tende a comprimere quello che è il diritto allo studio e quindi c'è da portare avanti anche una battaglia a livello provinciale. Lo faremo attraverso il nostro consigliere provinciale il dottore Fiorillo. Che cosa significa fare andare via l'alberghiero? Significa tagliare le speranze e il futuro a generazioni perché questa scuola è una delle poche scuole superiori che ha una domanda che non riesce a soddisfare. E soprattutto la cosa grave è che i ragazzi che chiedono di andare all'alberghiero e non riescono ad andare non sono ragazzi che poi andranno ai licei o quant'altro ma saranno ragazzi che rimarranno per strada. Quindi una decisione del genere taglia il futuro a una generazione. Grazie per la visione!